abbiamo il nostro fantastico modello ciao la nostra bellissima truccatrice però aspetta fatti vedere bene che eri tipo sfocato ciao ok poi qui abbiamo vittorio qui poca ontas e qui abbiamo la modella e la nostra bellissima truccatrice modella fatti vedere dai un bacio e lavoreremo in questo fantastico posto che è la trevi rom suite che si trova a fontana di trevi ragazzi è bellissima guardate che particolarità guardate 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 è fantastica è oro ovunque guardate che meraviglia questi accessori fantastici ovviamente questi non li indosserà michelangelo questo è il mio primo blog si dice così no blog tutti sono impegnati io sto parlando da sola però per il resto sono sono super contenta di lavorare in questo posto oggi con queste bellissime persone e vi farò poi vedere il video montato da dal mio fantastico collaboratore guarda va bene ecco ecco il nostro percorso il nostro il mio team fantastico e stiamo andando a fontana di trevi nel bel mezzo del caos di fontana di trevi non c'è nessuno proprio no vabbè questo è proprio photoshop e via vediamo un po' ma io direi che c'è il panico veramente ed ecco a voi fontana di trevi ma che bel freschetto che meravigliato ok noi adesso iniziamo aspetta che c'ho lo zoom vai togli tutti aspetta ragazzi salutiamo direttamente adesso noi adesso noi vi salutiamo perché dobbiamo scattare baciate niente salutate ciao aspettate che si vedono l'altri salutate ciao a tutti ciao eccoci ciao 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 ciao